Proseguono a Pescara senza sosta i lavori di abbattimento delle tre palazzine pericolanti di Vialago di Borgiano nel quartiere Rancitelli. Questa mattina gli operai hanno provveduto alla demolizione del tetto di uno dei tre stabili. Ai lavori ha presenziato l'assessore comunale Isabella Del Trecco. Un inizio di cantiere con un inizio di sgombero più che di demolizione, questa mattina ci sarà una parte di demolizione vera e propria. Quindi cominceremo veramente a vedere con i nostri occhi un pezzo di fabbricato che va via e a seguire anche tutto il resto per far sì che si potrà dare ai residenti come giusto una piazza e uno spazio adeguati. Un esempio di vivibilità perché dovrà essere una piazza dove sicuramente ci sarà del verde ma dove ci sarà la possibilità di vivere, di confrontarsi e di passeggiare, di trascorrere del tempo. Quindi dei bambini agli anziani tutti avranno uno spazio e non tutto questo cemento per poter vivere in maniera sicuramente più sostenibile. Il presidente dell'Ater di Pescara Mario Lattanzio è entrato nel merito dei lavori parlando di tempi e costi. Entro tre mesi dovrebbero completarsi i lavori permettendo poi se ci sono interruzioni dovute non a cause normali, nel senso è un lavoro particolare, quindi può succedere di tutto. Spero di no, che si rispettano i tempi. Oggi inizia proprio la vera demolizione con la pinza, quindi si cominciano a smontare i solai, le varie travi, pilastri. E quindi questo sarà ripetuto poi anche sugli altri due edifici. Quindi è un lavoro che avrà il suo compimento tra i tre mesi che avevamo previsto per capitolato. I costi? Tutto il progetto è un milione e tre e cinquanta, compreso di spese tecniche, IVA e i lavori. La società che si è giudicata alla gara è di gubbio e quindi si stanno realizzando nella programmazione che avevamo previsto. Per Pescara penso che è una cosa positiva, anche perché qui poi si creerà una piazza al servizio di tutta la zona e si riqualificherà la zona stessa.